Quattro gol su Torana Pernaco, Giuliani caccia perfettamente la prolunga Moras sul secondo palo, Pisano, come aveva trovato il gol proprio nel finale di partita con l'Atalanta, sempre da quella zona, riesce a buttare la difesa del Becchiero. Moras, ma Pisano, è una clamorosa posizione irregolare, ma clamorosa, almeno un metro. Assolutamente, di solito i nostri guadalini sono sempre molto bravi, se sbagliano sbagliano di centimetri. Questa era una chiamata facile perché l'hanno allungata sul secondo palo e c'era tutto il tempo per andare a vedere la posizione di Pisano. Così non è stato, il Beurona si trova in battaglia. Telecamere per Tonolini, c'è tanto di suo, anche in questa rete erano addirittura due giocatori in offside. E' chiaro che bisogna guardare poi, mi colpisce il pallone.